Buonasera, io come sempre ringrazio il pubblico, ringrazio tutte le persone che sono qui questa sera, che sono state con noi per tutta la rassegna Paradigmi e anche tutti coloro che sono invece venuti oggi per la prima volta a condividere con noi questo dialogo. Paradigmi è una rassegna che prende le mosse dalla volontà di ragionare intorno ai modelli, ai modelli culturali e soprattutto al modo in cui questi modelli possono essere modificati, ampliati, allargati, un sistema per ampliare il nostro sguardo da un punto di vista autoriale, linguistico, culturale, giuridico, insomma con gli ospiti, le ospiti che abbiamo avuto in questi quattro incontri il discorso ha preso queste mosse, ha preso questo paradigma, questa idea, questa parola e lo ha declinato in maniere differenti anche in base alle sensibilità di volta in volta di chi ha partecipato e di chi è venuto. Questa sera io do un caloroso benvenuto, sono molto contenta che sia qui con noi Veragheno, grazie per essere qua. Veragheno è sociolinguista, così dicono, ricercatrice all'Università di Firenze, ha collaborato vent'anni con l'Accademia della Crusca, ha lavorato per Zanichelli, è traduttrice dall'ungherese che se non sbaglio è la tua madrelingua e ha al suo attivo numerosissimi saggi, alcuni li abbiamo presentati insieme come Potere alle parole, pubblicato da Inaudi, come Le ragioni del dubbio, non ho avuto piacere ancora di presentare Femminili singolari, quello che hai pubblicato con FQ, questa sera però prendiamo un po' lo spunto dai suoi ultimi due lavori, che sono Chiamami così, Normalità, Diversità e tutte le parole nel mezzo, che è stato pubblicato dal Margine nel 2022, l'anno scorso? Credo di sì. E poi il più recente, di pochi mesi successivo, Parole d'altro genere, pubblicato invece da Rizzoli nella collana Burr, Come le scrittrici hanno cambiato il mondo. Quindi questa sera il nostro dialogo, il nostro scambio prenderà le mosse da questi due lavori, da questi due libri che hanno forse una direzione leggermente diversa da un punto di vista editoriale, nel senso che Parole d'altro genere è un percorso che illustra attraverso 42 scrittrici alcune parole, alcuni termini, alcuni concetti a cui Vera ha dedicato i suoi studi e la sua attenzione, mentre Chiamami così è un pamflet che ragiona forse più nel merito del concetto di differenza. In ogni caso i due libri dialogano tra loro, si parlano e sono connessi e quindi noi cercheremo di dare voce a questa connessione. Vera, se ti vai inizierai da Chiamami così, perché volevo parlare e lasciarti la parola a te, partendo dalla presentazione che fa Fabrizio Acanfora, che tu definisci un po' il tuo sudale ultimamente, perché Fabrizio Acanfora è qui, quindi richiamo la parola paradigmi che dà voce alla rassegna. Presenta il libro, Chiamami così, di Gheno, proprio partendo dalla concezione di una realtà che viene interpretata sempre con una dialettica comparatista, quindi la normalità e la differenza. E lui dice che dare questo modello, dare questa categoria, dare questa sorta di binario alle persone, impedisce di lavorare e di concepire invece la differenza come un valore aggiunto, come una varietà. Quindi invece di parlare di normalità e differenza si potrebbe parlare di varietà di persone, varietà di situazioni, di come le persone le vivono e quindi non dire che siamo tutti uguali, ma dire forse di più che siamo tutti anche diversi sotto certi aspetti. Ah, questo era l'assist, ok. Allora, intanto buonasera, grazie di essere qui, sono felice di tornare a Genova come sempre di corsa, quindi è una toccata in fuga, ma evidentemente Genova e io ci dobbiamo frequentare così a spizzichi e bocconi. Grazie Ilaria per quello che fa, per il suo lavoro di animatrice culturale indefessa, in mille forme, quindi in perenne trasformazione, essendo una persona chiaramente inquieta, ma in senso buono, e quindi sono, insomma, onorata di... L'ultima volta ero al piano di sopra, adesso sono al piano di sotto, insomma, mi giro tutti i locali di questo Palazzo Ducale, è una cosa che mi fa piacere. Allora, intanto devo fare del debunking, nel senso che c'è un altro libro già che è uscito, dopo questi due, solo che è più inerente all'altra mia area di interesse, che è la comunicazione digitale, la comunicazione mediata tecnicamente, ed è un galateo della comunicazione che è uscito per Franco Cesati, editore, che è il mio primo editore, è colui a causa del quale poi è successo tutto il resto, perché se non usciva, permettetemi questa forma così, se non usciva Guida Pratica, l'italiano scritto, senza diventare gran marnazzi, nel 2016, tutto il resto non sarebbe successo, io pubblico da quel libro in poi. E quello è il mio, credo, quattordicesimo libro, se non vado errata, quindi questo sono dodicesimo e tredicesimo, giusto per fare un po' di cabale numeriche. Poi è anche vero che alla fine dei salmi, se io vado a vedere qual è la linea di base, il filo rosso di tutti i miei libri, è proprio il ragionamento sulla complessità e sulla gestione della complessità, o a livello di genere, o a livello di, come dire, differenze esistenti nella società, o a livello di comunicazione, quindi pensando all'on life, a questa vita strana a cavallo dell'online e dell'offline che viviamo oggi. Quindi alla fine credo sia la cifra un po' di tutte le cose che sto scrivendo in questo periodo e che forse scriverò. Fabrizio Acanforo è un nome tutelare, Fabrizio è una persona a me molto cara e è uno di quelli che mi dà più schiaffoni dal punto di vista della conoscenza e dello studio, perché Fabrizio è un uomo autistico ed è un autistico che ha scoperto molto tardi di esserlo. Lui ha scritto anche un libro favoloso che si chiama Eccentrico, che è uscito nel 2019 per FQ e che ha vinto il premio nazionale di divulgazione scientifica. E Eccentrico è la storia della sua scoperta di essere autistico dopo 35 anni di presa in giro come strano, come persona strana a cui danno fastidio le luci forti o che ogni tanto si ritira in un angolo perché non sopporta la gente. Ah, ma lui è uno strano e invece poi si è scoperto essere autistico. E questo lui vive la sua diagnosi come una rinascita perché finalmente tutte le cose strane che lo caratterizzavano hanno un nome, hanno una spiegazione. Quindi io ascolto doppiamente Fabrizio perché da una parte è uno studioso che approfondisce fino a dove arriva, quindi lui deve arrivare alla radice delle cose se no non è soddisfatto e in più è un rappresentante di una categoria tradizionalmente marginalizzata, cioè quella delle persone neurodivergenti o neuroatipiche. Di conseguenza lui vede delle cose che io non vedo, che dalla mia posizione di donna bianca, etero, cis, di mezza età, benestante, cioè diciamo quasi all'apice del privilegio tranne di essere donna in una società patriarcale magari ecco non vedevo o non vedo e quindi lui è sempre lì, per questo io lo chiamo nome tutelare. La questione del siamo tutti diversi, siamo tutti uguali, volevo solo dire due o tre cosette, poi ti rilascio la parola. La prima è una delle più grosse ipocrisie che possiamo dire quella di dire ma per me siamo tutti uguali, perché non è vero, perché l'essere umano è biologicamente programmato, questo ce lo dice Termo Pievani, per vedere la differenza. Quindi noi davanti a una persona dalla pelle diversa dalla nostra, che si muove in maniera diversa da noi o che non si muove, o che ha un corpo grasso secondo gli standard estetici, oppure è vecchio, un corpo anziano, una donna seminuda anziana, disdicevole, non si fanno queste cose, guarda quante rughe, che schifo, no? Questo tipo di giudizi qui. Ecco, queste cose noi le vediamo benissimo, non possiamo far finta che non esistano, non possiamo far finta che non esista la percezione della differenza, perché, come ci spiega Pievani, è un tratto biologico che abbiamo. Noi siamo programmati per cogliere il diverso, perché il diverso ci fa scattare una reazione di paura, di xenofobia nel senso più ampio del termine. Xenofobia legata al fatto che temiamo che quel diverso, quel barbaro, come avrebbero detto gli antichi greci, ci possa togliere qualcosa. Poi questa è una reazione istintiva, ci dice sempre Pievani, che dura molto poco, circa un terzo di secondo, dopodiché diciamo che accendiamo la ragione, i razziocini e diciamo, ah no, è solo una persona che ha un'aria differente dalla mia, ma questo non vuol dire che sia un pericolo. Fateci caso che quest'operazione di accensione del razziocinio mica la fanno tutti, questo va detto, no, nel senso che molti rimangono all'istinto, no, e questo è numero uno. Quindi la diversità, la diversità, nel senso di varietà, noi la percepiamo. La seconda cosa, per me siamo tutti unici, bellissimo pensiero, è quello portato avanti per esempio da Drusilla Foer nel suo famoso discorso a Sanremo l'anno scorso, condivisibilissimo, tuttavia è vero che siamo irripetibili, anche le nostre conoscenze linguistiche ad esempio sono assolutamente uniche, non esistono due persone al mondo che abbiano lo stesso corredo linguistico, ok? Non esistono due persone al mondo uguali, cioè neanche i gemelli monozigoti alla fine sono perfettamente uguali, cioè si differenziano per delle cose, quindi questa è una cosa importante, ma c'è un correttivo da inserire sulla questione del celebriamo l'unicità, che quando noi veniamo discriminati, veniamo discriminati spesso per l'appartenenza a una categoria, quindi veniamo discriminati in quanto donne, in quanto persone con disabilità, in quanto persone con neurodivergenze, in quanto musulmani, in quanto grassi, in quanto poveri, in quanto vecchi e così, o in quanto giovani, perché pensate all'approccio dei mass media alla questione ultima generazione, fa assolutamente schifo, cioè diventa più disdicevole avere imbrattato in maniera ecobio, o almeno averci provato, una statua che non, che noi lasciamo alle generazioni future un pianeta ciancicato, come si dice a Firenze, cioè in buona sostanza distrutto, e questo, cioè, è inutile indignarsi perché la statua è stata coperta di vernice, secondo me, cioè, comunque, la cosa interessante è che queste istanze, come quelle di Greta Thunberg e di Fridays for Future, vengono spesso sminuite in quanto, ah, sono giovani, no? Come se questo fosse, appunto, di nuovo motivo di discriminazione. Quindi, siamo unici e uniche e uniche, ma veniamo discriminati in quanto membri di una categoria che viene resa omogenea, tutti i musulmani. C'è questa bella frase, in un libro che io cito sempre, di Kyubra Gimushai, che è Lingua e Essere, in cui lei dice, se un musulmano, se io musulmana attraverso la strada con Rosso, attraversano la strada con Rosso con me un miliardo e novecento milioni di musulmani. Pensate a Charlie Hebdo, no? Alla strage di Charlie Hebdo e al giorno dopo al titolo Bastardi Islamici, tutti, tutti, no? E quindi il musulmano, come si può dire, progressista è costretto costantemente a fare un lavoro di distinguo, no? Non siamo tutti così, no? Ma, cioè, se ci pensate è una cosa faticosissima. Quindi le persone vengono omogeneizzate in una categoria. I gay, le persone trans, le donne, no? Quindi è vero che siamo unici, ma la discriminazione è per categorie. E quindi è vero che sarebbe bello pensare alla convivenza delle unicità, che è un po', diciamo, l'estremo poetico, ma forse ci possiamo accontentare anche di andare nella direzione di una convivenza delle differenze. Cioè, riconosciamo che siamo differenti e che forse inclusione ha il grosso problema, come spiega Acanfora, che non rimuove la distinzione fra normale e diverso. E quindi chi è che include? I normali. Chi è che viene incluso? Il diverso. Il problema del movimento di inclusione è che toglie agency, toglie agentività ai diversi. I diversi non possono decidere quanto, come, perché venire inclusi. Perché l'inclusione è un atto che viene dall'alto ed è un atto paternalistico. Quindi io ti includo, ma decido fino a che punto includerti. Faccio due esempi e mi chiedo. Uno, uno degli ultimi comizi di Giorgia Meloni, prima delle elezioni a Cagliari, viene interrotta da un attivista LGBT, cui ha più sedicente tale, poi non analizzo se fosse davvero o se era una cosa costruita, sale sul palco e chiede il matrimonio egalitario. La risposta di Meloni è avete già le unioni civili. Questo è un esempio di inclusione. Cioè, io, eterosessuale, mi pongo su un gradino sopra, per cui il mio, la mia istituzione si chiama matrimonio. La vostra, contentino, se vogliamo, è una cosa minore, si chiama unioni civili. Per carità del Signore non pensate di poter accedere all'istituzione che abbiamo noi, cioè al matrimonio, perché non ve la meritate. Siete omosessuali e quindi sta cosa non si può chiamare allo stesso modo. Esempio di inclusione. Altro esempio, il modo in cui gestiamo nella nostra società la disabilità. Abbiamo un grosso problema con la disabilità, nel senso che fino all'altro ieri era considerata punizione divina, adesso piano piano, e quindi le persone con disabilità venivano nascoste, perché era disdicevole anche solo farle vedere. Forse questo un po' lo stiamo superando, cascando all'estremo opposto il cosiddetto inspiration porn, cioè la pornografia dell'ispirazione. Guarda quanto è bravo quello anche se non ha le gambe. E se ci riesce lui a fare le cose, allora tu che c'hai le gambe devi farlo ancora di più, no? Pornografia dell'ispirazione. Ero a Borno, in Alta Valcamonica, e ai posti per disabili, c'è attaccato il classico cartello, se vuoi il mio posto prenditi anche la mia disabilità. Questo è una colpevolizzazione della disabilità, no? Cioè se vuoi il mio posto devi essere sfigato come me, questo è il sottotesto. Cioè abbiamo un problema proprio nella relazione con la disabilità. Ma dov'è che arriva l'inclusione? Abbiamo preso atto della necessità di fare i bagni accessibili, sempre più alberghi hanno le camere accessibili, in cui le persone abili non vogliono stare. Cioè se ti capita una camera accessibile, a te persona senza disabilità, molte persone dicono no, io questa camera non la voglio, come se c'è solo il bagno più grosso, c'è il letto più basso, c'è delle cose che sono compatibili con le abilità, per carità. Facciamo lo scivolino, perché mettiamo l'ascensore, ma c'è un tabù enorme che riguarda le persone con disabilità che è la sessualità. Una persona con disabilità non può aspirare all'erotismo, al piacere, a una vita sessuale. Perché? Perché le persone con disabilità sono desessualizzate, sono dei piccoli angeli, no? E quindi ci fa senso, non a me, ma dico come società, ci fa senso pensare che una persona con disabilità possa volere fare sesso, banalmente. Non dico questa cosa a caso, ricordo l'ennesima lotta che sta facendo Jacopo Melio, che è un mio caro amico, ed è un advocate dei diritti delle persone con disabilità, che è per l'operatore sessuale. L'operatore sessuale è una persona formata in ambito medico e in ambito psicologico che alla bisogna, su richiesta, può aiutare una persona con disabilità a fare una cosa che rientra nei diritti umani, che è godere, molto banalmente, godere fisicamente. Ogni volta che si ipotizza la possibilità di creare questa figura professionale, apriti cielo, prostituzione legalizzata, che schifo, i nostri angeli non si toccano. Questo è un esempio di inclusione. Cioè, la persona con disabilità non è considerata persona, è considerata disabile e basta. Ecco, queste sono le cose per cui Fabrizio e di conseguenza io cerchiamo di ragionare sulla convivenza delle differenze e non sull'inclusione. Sì, altro discorso che so che ti è caro e che porti avanti è quello dei femminili professionali, e anche in questo ci sono dedicati due dei sottocapitoli. Tu qua parli di ministra, ma io prima di lanciarti ministra ti introduco a questo tema in realtà con una mia esperienza individuale, personale. Perché al di là dell'utilizzarli, si potrebbe fare un passo indietro e osservare come forse il problema ancora più in basso, nel senso che non solo non vengono utilizzati, ma alcune volte se tu li utilizzi, crei un fastidio nelle altre persone. A me è capitato a scuola di correggere il modulo del verbale e quindi scrivere verbalizza la coordinatrice e l'area crotti, invece che lasciare il coordinatore che secondo il modello e il modulo è registrato così. Ecco, c'è sempre una sorta di necessità quasi inafferrabile e proprio incontenibile o di fare la battutina simpatica o di comunque considerarti forse un po' troppo pedante o forse un po' noiosa o troppo puntigliosa. Ecco, quindi c'è anche questa paura che ogni volta che qualcuno prova a fare uno sforzo, ma anche per se stesso, come dici tu, anche molto frequentemente nei tuoi libri, siamo esseri pensanti, nasciamo, abbiamo l'infanzia, cresciamo, invecchiamo, non è che a un certo punto il nostro cervello si ferma, possiamo continuare tranquillamente a far fatica, a cambiare, nonostante mano a mano che si invecchia diventi sempre più difficile. Quindi il disprezzo verso chi, o comunque anche la diffidenza, verso chi questo sforzo prova a farlo anche senza realmente che voglia rappresentare un monito verso chi non lo fa, ma semplicemente perché ha intenzione di lavorare per se stesso e di combattere la sua magari piccola battaglia, è forse un altro problema che sta ancora più alla radice del decidere addirittura di non usarlo, no? Il femminile professionale. Sì, il femminile professionale credo che sia la punta di un iceberg molto più, ovviamente infinitamente più grosso e credo che tutto parta da quella cosa che si diceva prima della xenofobia. Così come siamo xenofobi, siamo omofili, cioè ci piace stare all'interno di gruppi omogenei in cui, anche quando si discute, ma si discute partendo sempre da dei punti fermi che condividiamo, no? E quindi questo ci dà una sensazione di essere parte di un tutto, come direbbe John Dunn, no? Non ci fa sentire isolati, ci fa sentire questo famoso animale sociale. Ora, nei gruppi omogenei la persona che diverge per un motivo o per l'altro è vista non solo come un fastidio, ma come un pericolo per la coesione. E quindi è un po' l'effetto, vi ricordate la fiaba del re nudo, no? Cioè che tutti vedono i vestiti nuovi dell'imperatore, no? Tutti celebrano i vestiti nuovi dell'imperatore finché non arriva il bambino naif che dice ma il re è nudo! E poi lì uno in teoria poteva anche zittire il bambino e invece poi infine tutti si accorgono che il re è nudo e gli vanno dietro. Però il senso, cioè quando tu usi coordinatrice è come se si accendesse una specie di spia luminosa che dice il re è nudo. Cioè perché stiamo usando un maschile sovraesteso? Perché finora non si è mai messo in discussione? Si è sempre fatto così. Se fossimo si è sempre fatto così la donna non potrebbe studiare, la donna dovrebbe continuare a avere il ruolo biologico di moglie e madre, ci sarebbe ancora il delitto d'onore per esempio, abolito nel 1981, tante cose sarebbero come una volta. Se si continuasse a fare come si è sempre fatto forse non avremmo inventato tutta una serie di cose, no? Quindi diciamo che il si è sempre fatto così è nemico del progresso da una parte, ma il creare una disomogeneità, il creare un'increspatura è vissuto da molte persone come un attacco non solo allo status quo ma a quello che quelle persone sentono di essere e quella coesione alla quale sentono di appartenere. E questo è diciamo un desiderio di omogeneità, ma pensate come viene guardata una persona che decide di fare qualcosa altrimenti. Cioè in una società in cui tutte le donne si sposano una donna decide che non si vuole sposare e vuole studiare. Mi viene in mente Bridgerton. Se vi ricordate, forse qualcuno di voi ha visto la serie Bridgerton di Shonda Rhimes, Shonda Rhimes è una molto furba che infila sempre delle questioni sociali, anche in Grey's Anatomy per dire che è la mia passione, ma ci sono molti discorsi per esempio sulla medicina transgenere, sul razzismo nell'ambito medico. Comunque in Bridgerton la storia della prima stagione è che bisogna sposare Daphne, che è la sorella maggiore, bisogna sposarla bene, sotto testo una figlia che non si sposa bene diventa un peso economico per la famiglia e quindi bisogna sposarla bene in modo che tutta la famiglia si sistemi. E quindi c'è il duca di Hastings sennò che viene attenzionato. Poi è chiaro che ci piace la storia, lui è buono, lei è buona, alla fine viene fuori che si amano, però di fatto stiamo parlando di un matrimonio combinato. In tutto questo nessuna delle persone attorno a Daphne, né Daphne, mette in dubbio la liceità di questo modus operandi. E' giusto che lei si sbatta per tutta la stagione sociale per sposarsi bene. L'unica che dice qualcosa è la sorella minore Eloise che aspira a fare la giornalista. E lei a un certo punto fa, c'è un pezzettino in un episodio in cui lei si sfoga, non mi ricordo se con l'amica o col fratello, e dice ma io non mi voglio sposare questa rottura di balle di doversi vestire bene, andare, fare, cioè quello che tutti sotto sotto pensiamo, no? Andiamo a fare le smorfiosette alle feste per cercare di attirare la profumiera, per cercare di attirare l'attenzione, io voglio studiare. E l'altra persona che è accanto che non mi ricordo chi è, la guarda e dice ma tu sei una donna, non puoi studiare. E lei ma io invece farò di tutto perché sta cosa proprio non mi ci ritrovo. Lei è quella che dice il re è nudo, no? E tutti la guardano, questa è scema, perché la reazione della società omogenea è pensare che sia quella stramba lei, tu sei quella stramba che vuoi usare coordinatrice, si è sempre scritto coordinatore, ma che te frega, i problemi delle donne sono ben altri. E questo mi porta a una seconda questione, poi abbattimi quando non ne puoi più. No, perché la seconda questione è il benaltrismo, il benaltrismo è un altro dei grossi nemici che ci sono in tutti i contesti, perché se io continuo la catena del benaltrismo all'infinito forse arrivo all'asteroide. Cioè qualsiasi altro problema è secondario rispetto alla prospettiva della NASA che tra 30 anni arriva un asteroide grosso come la Luna che probabilmente ci rimuoverà da questo spazio-tempo, no? Per cui tanto vale fare qualsiasi cosa, tanto poi arriva l'asteroide, no? Cioè non ha senso fare i benaltristi. Il benaltrismo parte dal presupposto che noi esseri umani siamo degli iPad di prima generazione che possono fare una cosa per volta. Allora, io so benissimo che c'è un problema di welfare, c'è un problema di maternità, c'è un problema di soldi, c'è un problema di stipendio, c'è un problema di tutto quello che volete voi, ma esiste anche un problema linguistico, perché ciò che non si nomina si vede meno e quindi nominare serve anche per iniziare a cambiare i paradigmi mentali, tanto per citare il titolo della tua rassegna. La terza cosa, e poi basta, viene sottovalutata tantissimo in tutte le grandi rivendicazioni sociali, culturali, l'iniziativa individuale. Ma anche quando si parla di qualità dell'internet, qualità dei social media, Amazon, Google, Zuckerberg, e tu? E tu che magari tutti i giorni vai online e scrivi Boldrini muori, Geno puttana perché succede continuamente, quello no, tu non contribuisci a sporcare l'ecosistema dei social media, no, sono i big player, io non conto niente, e tante persone lo pensano, in positivo e in negativo. Quindi non conta nulla se io butto la cicca in spiaggia, tanto è solo una cicca, no, cioè il resto della sigaretta, sono io a una piccola sigaretta, cosa vuoi che sia, ma se voi avete un minimo di coscienza ecologica sapete che anche la singola cartaccia conta, perché è una questione di nerbo, è una questione di atteggiamento nei confronti della questione. Cosa vuoi che conti se io mi firmo coordinatore o coordinatrice? Invece conta tantissimo, conta tantissimo perché tu crei quella famosa increspatura con la tua scelta e quell'increspatura è come se introducesse l'errore nella Matrix, se avete visto il film Matrix, cioè è la cosa che non torna e che magari porta altre persone a farsi due domande. Poi la maggior parte delle persone dirà, vabbè quella è quella strana, ha troppi libri in testa, ha letto troppo, oppure non so quanto siete preparati alla volgarità, ma la cosa classica che viene detta in questi casi è dovrebbe scopare di più, no, scusate se, però purtroppo lo dicevano a Michela, a Murgia, lo dicono a me, a chiunque dica queste cose un po' femministe, ecco che il problema è la mancanza di sesso e in contemporanea però sono anche puttana, il che è molto divertente, no? Cioè frigida e puttana in contemporanea, ci vuole dell'impegno. Se cambio nickname sui social sarà la puttana frigida che secondo me funziona molto bene, è molto evocativo. Comunque, l'azione individuale conta e spesso si sottovaluta il potere dell'azione individuale della parola. Giusto stamattina facevo lezioni ai miei studenti su questo e dicevo loro non dovete andare in giro a evangelizzare il mondo perché sarebbe solo fonte di grande frustrazione. Secondo me bisogna informare, divulgare e soprattutto ragionare sui propri comportamenti linguistici individuali. Cioè, per esempio, nel mio piccolo io non sono una di quelle che va in giro a dire, ah, tu ti definisci avvocato? Sei un'ancella del patriarcato. Perché è un caso di vittimizzazione secondaria, è brutto, cioè si creano altre tensioni. Io di mio, di default, chiamo tutte le donne che incontrò a femminile, dall'avvocato alla minatrice, alla muratora, a quello che volete, muratrice forse, all'idraulica, la fisica, la chimica, la ministra, la presidente del consiglio. Per me sono tutte femmine, se sono femmine. Se però la persona dall'altra parte mi dice, guarda, io preferisco chiamarmi in un altro modo, preferisco che tu mi chiami avvocato, io acconsento. Perché secondo me, cioè, lì c'è una questione individuale che io non voglio, su cui non voglio infierire e da cui non voglio inferire cose. Poi, se c'è la possibilità di prendere insieme un pacifico bicchiere di prosecco, il calumete della pace, chiedo normalmente perché quella persona vuole essere chiamata al maschile. E lì vengono fuori tante cose interessanti. Si è sempre fatto così, i mestieri sono neutri, e io lì rispondo, guarda, portami un vocabolario dell'italiano contemporaneo in cui da qualche parte, accanto a qualche sostantivo, c'è scritto sostantivo neutro. Perché non lo troverai. Perché in italiano il neutro non esiste. Quindi possiamo parlare di maschile sovraesteso, ma non è neutro. Oppure, secondo me la giustificazione migliore, quella che io condivido, è non voglio rotture di scatole. E questa io la capisco, perché non tutti sono nati per stare sulle barricate. Quindi, lavori in cantiere, architetta ti provoca, disagio, perché poi stanno tutti a fare gli scherzoni sulle architettine, l'architettone. Io capisco che per cui a tuo vivere ti fai chiamare l'architetto. Però sappi che architetta esiste. E così come fallo da dietro non richiama sempre una categoria di you porn, ma può anche riferirsi a un'azione in campo, o il raccatta palle non è uno che tiene i testicoli così, così ci si può abituare anche a architetta e desemantizzarlo con l'uso. Magari ogni tanto c'è anche un discorso di prestigio, no? Quello però non è un discorso linguistico, è un discorso di introiezione del modello patriarcale. Io ho introiettato il fatto che il maschile sia la forma di prestigio. Ho lavorato tanto per diventare architetto, adesso non svilisco il mio titolo col femminile. Fatte una domanda e date una risposta. Infatti da qua possiamo anche ragionare sul discorso proprio del canone istituzionale, di come ci hanno abituato. Con Broggi si diceva giovedì scorso che le narrazioni sono un affare serio, perché le narrazioni non sono solo quello che si intende come letteratura, ma sono il modo in cui noi ci raccontiamo le cose, come le raccontiamo agli altri, soprattutto come ce le hanno raccontate. E la parte istituzionale, il canone letterario per esempio, ciò che si studia a scuola, ciò che si studia all'università, passa anche attraverso un'idea culturale, un'idea socio, culturale, autoriale, che comunque indirizza le persone a vedere le cose in un certo modo, ad abituarsi ad averle in un certo modo. E forse ora stanno iniziando a cambiare le cose. Parlavamo prima io e te del nuovo manuale che sta curando Johnny Bertoglio, contro canone, per inserire comunque delle scrittrici donne all'interno dei manuali scolastici per le scuole secondarie. Quindi ci si sta muovendo in quella direzione. Già io per scoprire autrici donne ho dovuto fare un percorso individuale, passaparola, andare a cercare, studiare, perché non era così scontato trovarle. E il tuo secondo, hai detto che hai il tredicesimo libro, Parole d'altro genere, in questa direzione può essere uno strumento utilissimo, perché è un percorso, te ami chiamarlo percorso, che ha 42 tappe, sono 42 scrittrici che tu hai selezionato e hai ordinato secondo la cronologia. Quindi noi incontriamo Saffo e chiudiamo con Giovanna, Giovanna, vero? Giovanna Cristina Vivinetto. Giovanna Cristina Vivinetto. Quindi abbiamo un ampio ventaglio di secoli e hai composto questo percorso mettendo vicino a delle autrici e al brano antologico che hai scelto di inserire un termine, un concetto che volevi proporre, che volevi presentare, che volevi affrontare, approfondire e oltre a questo anche un suggerimento di lettura contemporanea che prende le mosse soprattutto dalla saggistica ma affronta anche un po' di letteratura contemporanea. Tra l'altro io so anche che il numero 42 non è scelto a caso, anche il numero 42 ha un suo significato. Quindi questo strumento che per esempio io leggo in maniera disordinata, cosa che penso possano fare tutti quelli che preferiscono e sono partita dalle autrici che conoscevo, magari qualcuno potrebbe andare in ordine cronologico, al contrario oppure da chi non conosce. E quindi partiamo dal numero 42. Che è il mio sogno di taglia. Cioè ho sempre voluto essere una 42 invece sono una 44, 46 quindi no, non è questo il motivo. Però io, cioè come racconto in qualche altro libro io ho un passato e un presente di disturbi alimentari per cui veramente la taglia 42 per me è stata, non l'ho messo nel libro ma adesso che mi ci hai fatto pensare c'è anche questo aggancio, 42 italiana, cioè 38 europea così per essere. No, a parte gli scherzi, 42 se ci sono dei nerd in sala lo sanno, infatti vedo gente che fa così, 42 è un omaggio alla mia anima nerd, io sono un amante della fantascienza, un amante sfegatata della fantascienza, soprattutto quella cyberpunk in realtà, quindi quella distopica che si occupa di un futuro abbastanza vicino, non tanto altri mondi all'Asimov, anche se apprezzo pure. E 42 è, si trova in guida galattica per autostoppisti di Douglas Adams ed è la risposta che dopo millenni di calcoli dà questo super computer costruito per conoscere la risposta alla domanda sul senso della vita, l'universo, tutto quanto. Quindi sto computer computa per tantissimo tempo e alla fine risponde che 42 è la domanda alla risposta sul senso della vita, l'universo, tutto quanto. Quindi è un po' un inside joke, anzi un easter egg come si dice, l'ovo di Pasqua, quelle cose nascoste all'interno dei libri o dei telefilm. Ce l'ho voluto mettere per due motivi. Uno, io avevo carta libera, carta bianca rispetto al numero di autrici da infilare in questo volume. Certo potevo metterne 20, 30, 50, 70, poi ho detto mettiamo un numero che abbia un senso, che crei a sua volta una specie di comunità. E ho pensato alla comunità alla quale mi sento di appartenere che è quella appunto dei geek, dei nerd, la gente che spippolava negli anni 90, che ha giocato ai giochi di ruolo, a cui piace la fantascienza, a cui piace il fantasy, che ha fatto cosplay, che è andata a Lucca Comics in pellegrinaggio varie volte, ecco quel genere lì. Quindi è un po' una strizzatina d'occhio a questa parte della mia vita che magari non è quella più nota. Inoltre ho sofferto per il fatto che c'è poca fantascienza in questa collezione. Perché? Il grosso del materiale che è confluito qui dentro viene dall'immane catalogo dei classici Burr. Quindi Burr ha pensato di fare questo libro per creare dei percorsi all'interno di classici che spesso sono stati un po' dimenticati. Ok? Dopodiché siccome io sono un po' rompiscatole, ho convinto la mia editrix, Caterina Campanini, che non ringrazierò mai abbastanza perché se no io sto libro non lo facevo, se non c'era lei con la sua cazzimma e io col cavolo che facevo questo libro, cioè è stata lì, alla prima presentazione ho detto che è stato un po' come quando avete un pretendente molto insistente o una pretendente, dai dai almeno un bacino e alla fine sto bacino glielo date, no? Per non dire di più, giusto così per acquietarlo. Ed è stato un po' così con Caterina, talmente insistito a fare sto libro che all'inizio non volevo fare che a un certo punto ho detto guarda pur di farti stare zitta te lo faccio. Questo è stato un po' l'approccio iniziale. Allora poi ho tanto insistito che Rizzoli mi ha concesso una piccola dote, Dana Rosa, per prendere un paio di autrici fuori dal catalogo Rizzoli, quindi un tot di migliaia di euro da investire così per diritti d'autore in sostanza, però a quel punto non l'ho investito sulla fantascienza ma l'ho investito sulla diversità, per cui c'è un pezzo di Africa, c'è un pezzo di Asia, ci sono un paio di autrici che non sono fuori diritti, soprattutto le più recenti, che però ci tenevo che ci fossero per rappresentare un po' l'alterità, che per me è un concetto molto importante. Però per esempio ci avrei voluto mettere Pat Cadigan, che io amo molto, autrice cyberpunk, insomma ce ne sono di moderne anche. C'è Mary Shelley e poi c'è, oh non mi ricordo mai come si chiama lei, aspetta, scusate perché poi me ne sono anche dimenticate, essendo tante. Allora, dove ho messo la fantascienza? Non la troverò mai. Ah, Lee Brackett, che non so quanti di voi conoscono, è una grande autrice di fantascienza che traveste una specie di grido, come si può dire, di protesta contro il razzismo americano all'interno di un racconto di fantascienza, nel quale i discriminati sono gli alieni. Infatti il pezzo si chiama I negri verdi ed è stato tradotto così originariamente al tempo. Sapete che io di solito la N-word non la uso, infatti lo spiego nell'introduzione a questo pezzo, che vengono riportate le parole di uno dei razzisti, che apostrofano così questi alieni che sono verdi, quindi l'ho voluto lasciare. Fra l'altro nella traduzione italiana compare la N-word, nell'originale invece il pezzo si chiama All the Colors of the Rainbow, tutti i colori dell'arcobaleno, però visto che era la traduzione originaria l'ho voluta lasciare così. A proposito di come leggere questo libro, siccome è una cosa che mi è stata chiesta, cioè tu come lo percorreresti, io ho detto che è un libro da toilette, è un libro da bagno. Allora, è vero che mi sono un po' immaginata il bagno di Marta Marzotto, però io tengo i libri in bagno perché è uno dei posti dove i gatti e mia figlia mi lasciano stare, mi lasciano campare, quindi quando arrivo a espletare le mie funzioni, quelle che richiedono un po' più di tempo, mi porto qualcosa da leggere. E siccome la maggior parte di questi brani è molto breve e sono quasi tutti brani, come si dice, autoconclusivi, perché ho voluto proprio ricercare il racconto breve, la testimonianza, la pagina di diario, l'articolo di giornale, in alcuni casi ci sono dei capitoli di libri, dei capitoli interi, ma meno tagli possibili. C'è la mia introduzione di una pagina e mezza, c'è sto brano di due, tre, a volte dieci pagine, cioè ve la cavate nel tempo di finire le proprie attività corporee e avete letto un pezzettino di libro, quindi lo potete aprire a caso e dire, oggi mi leggo puttana, vediamo cosa dice la gheno su puttana e vediamo chi c'è, che autrice è stata scelta per puttana, no? Così. Sì, anche perché poi c'è l'etimologia, parte comunque sempre dalla... C'è sempre la mia fissazione che è l'etimologia. Quindi si parte sempre insomma dall'anno, dall'anno della prima registrazione. L'attestazione della parola, sì sì, cioè l'etimologia, la prima attestazione, una piccola spiegazione. Faccio un brano e poi si conclude comunque sempre anche con un suggerimento. E di questo io sono particolarmente fiera, perché quella è stata proprio una mia idea, cioè c'è la trattazione della parola, no? Gelosia. Cos'è la gelosia? Gelosia ovviamente è l'ode alla gelosia di Saffo, no? Quindi c'è il mio discorsetto sulla gelosia, cioè il pezzo antologizzato. E quando scrivevo quei pezzi mi ero chiesta come rendere ancora più attuale il discorso, come legarlo al presente, perché comunque io sono una contemporaneista. E allora mi è venuta l'idea di accostare a ognuna di queste parole un saggio contemporaneo. Sono quasi tutti saggi, quasi tutti scritti da donne e quasi tutti contemporanei sullo stesso tema. Ovviamente declinato in maniera diversa e quindi con un volo abbastanza radente al sole direi. Per esempio gelosia, Saffo e il saggio che ho scelto è, come si chiama, Maledetta sfortuna di Carlotta Vagnoli, perché lei lì parla della degenerazione dei rapporti amorosi, affettivi quando c'entra la gelosia. Quindi questo è un po' l'arco. E quindi trovate anche 42 per lo più saggi, per lo più contemporanei. Era un modo anche per far conoscere la mia rete, perché una delle cose del femminismo che per me sono importanti è la sorellanza. Quindi l'idea che non c'è l'emersione individuale, c'è il tentativo di creare un fronte comune, una specie di alleanza, di rete, di rete di saperi. E quindi c'è Daniela Broggi per l'appunto, c'è Emanuela Griglia e Guido Romeo che hanno scritto un saggio bellissimo che si chiama Per soli uomini. C'è la Deleu. C'è Maya Deleu che ha scritto Queer, storia culturale della comunità LGBT+. C'è Liv Ferracchiati che è un autore che personalmente adoro. Lui ha scritto un romanzo molto bello che si chiama Sarà solo la fine del mondo ed è praticamente l'unico romanzo che c'è. C'è Nicoletta Vallorani che è professoressa di letteratura anglo-americana, scrittrice di fantascienza femminista. Quindi se guardate solo i consigli di lettura trovate uno spaccato di quello che sta succedendo oggi in Italia a livello di ricerca sulle questioni di genere ma non solo, insomma su questioni forse socioculturali nel senso più ampio del termine. Ricerca che è tanto più urgente e continua insomma a essere per noi qualcosa di necessario perché adesso mi riallaccio un attimo a quello che parlavamo prima al bar sul convegno dell'allattamento. Faccio un giro un po' vorticoso ma tra le... questo anche per dirvi come i due libri possono dialogare ma come anche il nostro bagaglio personale e quello di Vera che si mettono insieme creano ulteriori connessioni quindi la rete si amplifica e si ampia sempre di più. Nella parola dedicata, anzi nell'antologia, nel riferimento che tu fai all'aborto, tu parli di Dawi e se non ci sono scale nell'antologia tu nel brano antologizzato riporti questo racconto. A me ha fatto venire immediatamente in mente leggere quel punto del racconto dove questa donna, pur di abortire, siccome non ha scale e continua a ballare fino allo sfinimento, un racconto, un brano di un racconto invece di Ada Negri che tu comunque sempre citi e inserisci nella tua antologia di 42 autrici dove lei racconta la stessa cosa. Una protagonista di una sua storia scopre di essere incinta, fa finta di non saperlo e ha un ballo, si fa mettere un corpetto strettissimo e continua a ballare tutta la notte fino poi a morire di fatica, di stenti. E questi racconti, adesso quello di Dawi io non conosco l'anno di pubblicazione mentre Ada Negri, ad esempio il crimine che era dentro le solitarie, siamo nel 1917, pensavo, avevo fatto questo ragionamento e poi mi collego qua, a quando la Oriana Fallaci nel 1973 partecipa a una trasmissione televisiva e si batte, parla e cerca di commentare in maniera abbastanza amara il fatto che in quel dibattito a parlare di aborto fossero sei uomini e tre donne e lei dice giustamente forse sarebbe stato quantomeno più adatto a essere sei donne e tre uomini. Per poi scoprire, in questo libro io non lo sapevo, che a un recente convegno sull'allattamento e quindi qua siamo nel 2023, quindi dal 1917, 1922, sì, nessuna donna ha un convegno sull'allattamento. Quindi questo... Sì, lo nota, lo ha notato Michela Murgia, insomma, nella sua rubrica su Instagram in cui faceva questa specie di rassegna sessista, qualcuno le aveva inviato, insomma, le aveva fatto attenzionare questo poster di un convegno sull'allattamento, tutti maschi, e allora lei aveva commentato dicendo a quando il convegno sulla prostata con solo donne, però in realtà, cioè, a pensarci bene è possibile che ci siano tantissimi luminari che studiano l'allattamento, semplicemente diciamo che oggi si inizia a dare una certa rilevanza anche all'esperienza diretta, no, in tutti i settori non solo l'esperienza diretta, ma anche l'esperienza diretta, quindi almeno un paio di donne che possono parlare di allattamento, diciamo, da dentro, no, forse poteva essere il caso che ci fossero, ma voglio dire il problema annoso che si ripete, uguale a se stesso nel corso degli anni, anche in quelle recenti è ovviamente la discussione sulle quote di genere, no, ai panel, nelle amministrazioni, eccetera ora, quote di genere sono una pezza, anche piuttosto fastidiosa, perché crei veramente il recinto dei panda o delle panda, però cosa succede quando non ci sono le quote di genere? Che spesso si ritorna a tutti i maschi nelle amministrazioni, nei panel, nei convegni, recentemente ho visto che c'era un festival sul futuro dell'uomo, quite literally, futuro dell'uomo, non nel senso di essere umano ma nel senso di maschio, perché erano tutti i relatori maschi, o come il famoso convegno festival sulla bellezza e sull'eros, quello che c'era stato a Verona, in cui c'era un'unica relatrice che era la moglie di uno dei relatori, non mi ricordo la moglie di uno di questi filosofi lì avevamo fatto il contro festival erosive, dove ho partecipato anch'io, che era quasi tutto femminile però, quando tu ti lamenti di questo con gli organizzatori e le organizzatrici ti dicono, noi le abbiamo chiamate, non erano disponibili, non ce ne sono cioè guarda, ti do io dieci nomi, nel senso che ormai le donne sono ovunque credo che non esista un settore in cui non ci siano esperte o persone comunque in vista di altro genere che non quello maschile che si possono invitare perché non si fa, perché non sono i primi nomi che ti vengono in mente perché a volte succede anche che vieni chiamata una donna e quella una donna dice, no non vi vengo a fare il token non vi vengo a fare il gettoncino che vi permette di dire ah siamo inclusivi, perché non è questa la diversità, non è questa la convivenza delle differenze se c'è una donna e basta, cioè dovrebbe essere abbastanza, in fondo siamo metà del pianeta sì, infatti è il discorso per cui le quote rosa che poi meglio chiamare quote di genere che è sicuramente più adatto sono fastidiose perché ti viene il dubbio, mi hanno chiamato perché sono brava o perché sono femmina però forse è l'inevitabile finché non ci abituiamo a questo insomma sì, oppure addirittura delle volte le usano direttamente per sminuire cioè è un po' una lama a doppio taglio, nel senso che alla fine sono utili, necessarie e devono continuare ad esserci, non vuol dire che non ci sia del merito cioè non è un favore la quota rosa in alcuni casi in alcuni casi una donna è presente come può essere in un'antologia perché deve esserci se posso fare un esempio sul campo dopo appunto, se vuoi possiamo chiudere ma questa la volevo dire io fra le tante cose in cui mi incasino una che amo particolarmente è la direzione di questa collana per libri per giovanimenti che si chiamano Scatoline che io dirigo per conto della casa editrice FQ sono dei volumi molto sottili a prezzo calmierato 6 euro l'uno e sono dei volumi ognuno dei quali è dedicato a una parola in ordine alfabetico quindi dalla A di amicizia adesso siamo arrivati alla L di libro e ogni volumetto è scritto da un autor diverso cioè autore, autrice o autore e ha dentro un disegno cioè le copertine sono tutte simili e formano un puzzle ma dentro c'è il disegno di un disegnatore differente quindi io per ognuno di questi volumi cerco una persona che lo scriva e una persona che lo illustri è successo di tutto cioè non è che ho detto allora adesso facciamo l'album in cui c'è lei che scrive e lui che disegna poi quello dopo c'è lui che scrive e lei che disegna però riguardando il lavoro di questi volumi dalla A alla L che quindi sono già abbastanza c'è stata un'alternanza abbastanza naturale ovviamente siccome FQ è anche molto attenta alle questioni di genere dentro ci sono anche un paio di persone di genere non conforme che non è detto che conosciate per esempio dei disegnatori dei disegnatori quindi ma non è stato ci mettiamo quello strano ci mettiamo la quota queer perché se uno si guarda attorno con sufficiente attenzione trova di tutto e quindi Amicizia è scritto da Nicoletta Vallorani è illustrato da Sio Bellezza è scritto da Giovanna Cosenza che è una semiologa dell'Università di Bologna ed è illustrato da Takwa Ben Mohamed quindi c'è un po' di diversità anche in senso diciamo geografico se vogliamo o culturale Casa l'ha scritto Nadisha Uyangoda adesso non mi chiedete tutti i disegnatori perché loro li conosco meno Diverso l'ha scritto Fabrizio Acanfora Errore l'ha scritto Vanessa Roghi visto che lei ha tutta l'infarinatura rodariana Falso l'ha scritto Adil Mauro che è un giornalista di origine medio orientale Gioco l'ha scritto Domiti Lapirro Handicap l'ha scritto Jacopo Melio decostruendo la parola Handicap quindi è un volume di cui vado particolarmente fiera Idea l'ha scritta Lilith Moscon che è una scrittrice di libri per bambini FGHI Junior Carolina Capria e Ketchup Ketchup è un capolavoro sta uscendo adesso K di Ketchup perché viene illustrata la storia del Ketchup che come sapete forse non lo sapete ma parte dalla Cina arriva nel sud-est asiatico poi va negli Stati Uniti e diventa il simbolo dell'americanità quindi è molto molto bella anche Ketchup e poi libro Valentina Farinaccio quindi c'è un po' di tutto ed è venuto in maniera abbastanza organica per cui questa per me questo lavoro di direzione è la dimostrazione che se ti guardi attorno a sufficienza e non ci sono tutti maschi c'è di tutto lì fuori basta fare attenzione ma non è uno sforzo sovrumano no, non è uno sforzo sovrumano anzi, sai cosa faccio allora adesso che è il tuo sforzo sovrumano ti leggo quelle due righe di cui ti parlavo prima e poi lascio spazio alle domande se qualcuno vuole chiedere qualcosa a Vera abbiamo un quarto d'ora accademico per farlo e ringrazio Palazzo Ducale che ha supportato, ha collaborato e ha sostenuto Paradigmi questa prima edizione speriamo che sia la prima di molte e Vera ti leggo cosa si chiede ma non è polemico perché lui comunque è un entomologo quindi lui si fa le sue riflessioni lui ci dice con i suoi 960.000 neuroni l'ape sa distinguere esemplari differenti di volti umani identificandoli anche quando sono presentati ruotati di un certo angolo però il cervello umano possiede 86 miliardi di neuroni gli esseri umani certamente non sfigurano nel confronto con le api o con altre creature munite di sistemi nervosi in miniatura anche noi sappiamo riconoscere i volti classificare un dipinto come un Picasso o un Monet e riconoscere l'eguale e il diverso però il cervello umano possiede 86 miliardi di neuroni quindi il vero mistero non è come possa riconoscere i volti o i quadri di Monet bensì che cosa ne faccia di tutti quei neuroni che gli avanzano non voglio saperlo ci pensiamo per il prossimo nostro appuntamento ci pensiamo usiamoli questi neuroni li usiamo per il prossimo appuntamento io ora vi lascio lo spazio però ringrazio ancora tutte le persone che sono state qui con noi e ringrazio tantissimo Vera per essere venuta grazie grazie